In Regione Campania una buona notizia, il tasso di positività rallenta la sua corsa e passa dal 4,48% al 4,12%. Secondo il Consedio Pollettino dell'Unità di Crisi, i positivi sono 539 su un totale di 13.080 tamponi. I deceduti nelle ultime 48 ore sono 5, a cui si aggiungono altre due persone morte in precedenza ma registrate ieri. Resta stabile l'occupazione delle terapie intensive, 22 rispetto ai 23 riportati nei dati del bollettino delle scorse 24 ore. Crescono i ricoveri nei reparti ordinari, si passa dai 340 ai 348 di ieri. Intanto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, tiene a precisare con una nota stampa che, dalla ricognizione effettuata in tutte le strutture sanitarie della Campania, è risultato che il 92% dei ricoveri in terapia intensiva non è vaccinato. Dalle stesse verifiche è risultato che l'83% dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia subintensiva non è vaccinato. Infine lancia un monito. Sono dati di estremo significato che mettono ancora più in evidenza la necessità di completare le vaccinazioni per tutte le fasce di età. Dati rispetto ai quali ogni esitazione diventa irresponsabile. In questa ottica proseguono in tutta la provincia di Salerno gli open day vaccinali, come a Battipaglia, iniziato ieri e sarà disponibile fino a stasera alle 19 presso il presidio ospedaliero del Santa Maria della Speranza per tutte le persone che orbitano nel mondo della scuola. Anche nella vicina Eboli, al Palasele, sia oggi che domani, ma di pomeriggio, dalle 17 alle 21 sarà possibile vaccinarsi. Invece mercoledì 25 agosto 2021, dalle ore 9 all'ora 18 presso il Palacoscioni di Nocere Inferiore, open day con prenotazione dedicato ai cittadini dei 12 anni in su. Sarà possibile prenotarsi a partire dall'ora 12 di lunedì 23 agosto con una disponibilità di 630 dosi.